Pronto? Pronto? Sì chi è? Come chi è? Dora. Ehi Dora come stai? Bene grazie. È quanto tempo? Senti devo dirti una cosa. Vai. Fai sul serio con Sara? E' pronto? Ho detto fai sul serio con Sara. Sì chiarissimo perché? Perché sto per chiederti di diventare la tata dei miei figli. Pronto?